La xylella fastidiosa beffa proprio la nazione che la scorsa settimana aveva bloccato le importazioni di 102 specie di piante dall'Italia per evitare l'eventuale contagio. Il batterio killer degli olivi è stato individuato infatti in un mercato all'ingrosso alle porte di Parigi, in Francia, in una pianta di caffè arrivata dall'Olanda. Le politiche dell'Unione Europea contro la xylella si sono dimostrate inconsistenti, ha commentato l'eurodeputata Rosa D'Amato, mentre per il ministro Martina si tratta della dimostrazione che la fitopatia sia un problema sovranazionale. Nel Salento intanto si adottano le buone pratiche agricole per contenere la diffusione del batterio. Questo pomeriggio nuovo incontro dibattito ad Avetrana sulle misure di prevenzione e difesa con le organizzazioni agricole e i rappresentanti dei comuni interessati alla problematica legata al rischio fitosanitario. Prevista la partecipazione del commissario per l'emergenza Giuseppe Silletti.